Torna in azione la Doggy Bag e questa volta è lo stesso comune di Cesena a promuovere la lotta agli sprechi alimentari e la riduzione dei rifiuti mediante il progetto pilota Qui Zero Spreco, a cui hanno preso parte ben 30 ristoranti e mense dislocati su tutto il territorio comunale. È un progetto molto importante in cui crediamo molto che lavora sulla riduzione dello spreco alimentare. Sappiamo tutti che lo spreco alimentare è una fetta importante di produzione dei rifiuti in una città ma anche a livello globale e quindi dobbiamo lavorare per ridurre sempre più gli sprechi sia per una riduzione dei rifiuti ma anche per un valore sociale del cibo e dell'alimentazione. A realizzare operativamente l'iniziativa che si avvale del supporto di ConfCommercio e Confessercenti e che ha un costo complessivo di 20.000 euro è Alimos che ha distribuito alle attività coinvolte 30.000 contenitori in plastica e sacchetti di carta personalizzati che consentiranno ai consumatori di portare a casa le eccedenze alimentari del proprio pasto. Sono stati presentati due kit che compongono il progetto e di cosa si tratta? Sono due kit, li abbiamo chiamati il primo, il kit antispreco e il kit divulgativo. Il kit antispreco si compie di un sacchetto di carta con due tipologie di diverse vaschette che sono state distribuite a tutti i ristoranti in forma gratuita e che servono ad invitare il cliente a portare a casa il cibo rimasto nel piatto. Il traguardo finale pertanto è di creare a Cesena un circuito di ristoranti che si impegnino attivamente a ridurre lo spreco di cibo che solo in Italia vale oltre 3,5 miliardi di euro ogni anno e di evitare che gli alimenti si trasformino in rifiuti.